Il tema della responsabilità disciplinare del personale della scuola ha assunto negli ultimi anni un rilievo molto importante. Lo dimostrano anche le numerose mail e richieste di informazioni che su questo argomento noi riceviamo periodicamente dai nostri lettori. Le domande che ci vengono poste sono le più svariate. C'è chi vuole semplicemente sapere quali conseguenze può avere una sanzione disciplinare sulla futura carriera, chi invece propone casi specifici e chiede consigli e suggerimenti su come comportarsi in una fase ben precisa del procedimento. Una delle domande tipiche riguarda poi le modalità da seguire per poter presentare ricorso contro un provvedimento di censura o di sospensione dal servizio. Una delle domande tipiche riguarda poi le modalità da seguire per presentare un ricorso contro un provvedimento di censura o di sospensione dal servizio. Ma perché oggi il tema della responsabilità disciplinare sta diventando così rilevante? Il cambio di passo si è avuto una decina di anni fa, quando entrò in vigore il decreto legislativo 150 del 2009, il cosiddetto decreto Brunetta, che ridefinì tra l'altro le competenze in materia di procedimento disciplinare. Fino ad allora i dirigenti scolatici potevano infatti infliggere ai docenti solamente la sanzione più lieve, cioè l'avvertimento scritto. Con l'approvazione poi del decreto Brunetta, molte competenze sono passate dai provveditorati ai dirigenti. Nel frattempo le norme sulla privatizzazione del rapporto di lavoro hanno avuto anche un'altra conseguenza. I ricorsi non si presentano più al Ministero Altar, cioè per via amministrativa, ma al giudice del lavoro. Allora, proprio per dare una risposta a questi e a tanti altri interrogativi, abbiamo deciso di aprire nel nostro sito una sezione nella quale pubblicheremo periodicamente brevi schede di lettura sui temi della responsabilità e del procedimento disciplinare. Continuate a scriverci su questo argomento perché le vostre segnalazioni e anche le vostre domande sono per noi molto importanti. ci serviranno infatti per affrontare i singoli aspetti di questo argomento facendo riferimento a fatti e a episodi ed esempi concreti. Quindi seguitici su questo canale, seguite anche il nostro sito www.tecnicadellascuola.it e soprattutto scriveteci, mandateci le vostre esperienze e anche le vostre domande. Grazie a tutti.